Il matrimonio Molti quando mi incontrano mi ritengono un convertito e la mia salvezza è stato il matrimonio, perché se non avessi trovato la Lucia io sarei stato un uomo dal punto di vista religioso di poco conto. Ma, ma, io invece, questo è un attributo che ho sempre rifiutato, io non sono convertito proprio per niente. Qualcuno potrà dire che vedo la religiosa, il cristianesimo a modo mio, siccome che è una cosa secondo Matteo, la musica secondo Tizio, il prano secondo Taio, la religione secondo Tamanini. Ecco, la religione secondo Tamanini. A me mi ha sempre affascinato del cristianesimo un episodio, e precisamente l'episodio di quel signore che si è avvicinato al falegname Gesù e gli ha detto io vorrei venire con te. Eh, il padre eterno ha detto, tu hai altro caso? Eh, sono qua. Però, dice, lascia tutto quello che hai. Come lascia tutto quello che ho? No, 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 dice, guarda, se tu vuoi venire con me, devi lasciare tutto quello che hai. E allora, quando ripenso a questo momento, quando questo signore ha detto, lascia tutto quello che hai, no, 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 non posso lasciare tutto quello che ho, me ne guardo bene, posso seguire le tue regole, ma non mi sento di lasciare tutto. E il padre eterno gli ha detto, nessun problema, ciao. E ci vediamo. E allora, quando però, quando però, leggo sui giornali che l'ISA, l'istituto dell'ecclesiastico di Trento, entra a far parte della sparcasse di Bolzano, mi si raddrizzano quei pochi capelli che mi hanno levato anche dalla testa. Ma com'è possibile che il clero abbia un istituto che si chiama ISA, che entra in società con la sparcasse e che magari in un domani la sparcasse con loro soci, di fronte a uno che non ha i soldi più da pagare il mutuo, gli portano via la casa e lo mettono sull'astrico. Allora mi ha in mente quel tale, cioè io vorrei venire con te. No, ma non è il caso perché è con me. Allora mi domando, ma quel clero o quei pretti o la curria, chi è, che sono in queste società, ma questo pezzo del Vangelo se lo leggono mai o magari li hanno messo nel dimenticatoio? Non è possibile. Per conto mio è una cosa che secondo Vangelo, secondo Tamanini, secondo me parere non funziona. E questa situazione della proprietà ha rovinato per conto mio la Chiesa più di una volta, più di una volta, perché la proprietà non mi si venga a dire che non c'è il conflitto di interessi, perché il conflitto di interessi quando ci sono soldi di mezzo, per tanto che uno cerchi di non guardare, di essere fuori, c'è sempre un pizzico. Quindi non venite a dirmi che la Chiesa si schiererà contro la provincia quando ci appa i soldi per mettere a posto gli oratori, per mettere a posto questo, per mettere a posto l'altro. Quando l'ISA, società del clero, entra nella sparcasse di Bolzato. Per me è un colpo nell'occhio. Mi piacerebbe che Gesù, quindi la sparcasse, gli eganazze dice, possiamo venire in società con te? O quello l'ISA, società di l'ISA, dicesse, senta il signor Falegname, noi vorremmo entrare in società con lei. Che cosa gli risponderebbe Gesù a quel tipo di curia, a quel tipo di preti, a quel tipo di amministrazione ecclesiastica che io odio? O